Lo scorso anno stavo pensando di smettere sinceramente, smettere nel senso di andare a giocare in eccellenza, mettere da parte i sogni e trovare un lavoro. Poi c'è stata l'occasione di andare a Vibbo e l'ho presa al volo ma giusto per rimettermi in gioco. Poi la chiamata del mister e del direttore non me l'aspettavo, anche se comunque ci siamo lasciati bene. Il mister sicuramente mi ha dato tanto sia quest'anno anche quando l'ho conosciuto a Catanzaro. Da parte mia venendo comunque da un campionato minore, una retrocessione della C2 alla Serie D, c'è sempre tanta fame e la voglia sempre di migliorarsi. Perché gli ex comunque la vivono in modo particolare, però penso che essendo una partita talmente importante la vivremo tutti in modo particolare. Poi quando si scende in campo non si pensa più a nulla ma si pensa solo a fare il risultato e basta.